Passiamo adesso alle serie normalmente in corso, che sono state diverse, cercherò comunque di essere rapida, perché come dico sempre sono cose di cui bene o male vi parlo spesso, quindi puntualizzerò quando ce n'è bisogno. E' uscito il secondo numero di After School Charisma di Kumiko Suekane, pubblicato alla GP Publishing a 5,90€ in edizione con sovracoperta. Manga che io ho preso sulla fiducia perché ho pubblicato sulla rivista Ikki in Giappone, che è una rivista da cui ci vengono tratti spesso seinen molto interessanti e particolari, ma questo manga a me proprio non piace. Tutta questa storia dei cloni, dei personaggi famosi, mi risulta priva di mordente, mi risulta sempre anche questo numero pieno di scenette tra questi cloni. In più c'è adesso questa lasetta della Mecora Dolly, che dovrebbe essere inquietante e preoccupante, invece a me non fa né caldo né freddo tutto quello che succede. Il protagonista Shiro è completamente privo di spina dorsale, secondo me è privo di alcuna attrattiva. E anche un po' il personaggio introdotto in questo numero, ho fatto ma chi è questo? Cioè non mi ha dato nessuna nuova emozione, nessuna curiosità sul proseguo della trama, e anche il semicolpo di scena che si è visto alla fine, ho fatto ah vabbè. Insomma non mi emoziona per niente, non mi convince, lo trovo piatto, poco convincente. E sinceramente per 5 ore in un'alta io non me la sento di continuarlo perché c'è il primo numero, ho detto vabbè vediamo. Magari è presentazione dei personaggi ma continua con quest'andazzo, io proprio non ce la faccio, non mi piace, so che a molti è piaciuto. Io però non trovo niente per cui consigliarlo, devo essere sincera, questione di gusti. Mi è invece decisamente convinto anche più del primo numero, il secondo di Bimbo Gami, di Yoshia Kisukeno, pubblicato a 5,50€ da J-Pop. Questo è uno shonen veramente divertente e anche molto originale come trama, come vi ho accennato l'altra volta. Ichiko è la ragazza più fortuna dell'universo, tanto fortunata che sottrae anche felicità dalle persone che le stanno intorno. Per riportare l'equilibrio sulla terra, Moniji, che è una Bimbo Gami, c'è un'attività della sfortuna, viene mandata sulla terra per cercare di sottrarre energia a Ichiko. Ichiko non ha nessuna intenzione di farsi prendere l'energia senza dire niente, questo scatenerà varie battaglie tra le due, a suon delle attività più improponibili. Infatti Moniji si farà aiutare anche le sue Bimbo Gami Item, che sono oggetti che compra con i suoi soldi, che dovrebbero aiutarla a sottrae l'energia della felicità al sacro. In questo numero ci sarà per esempio una spaventosa partita di tennis tra le due contendenti, in cui coinvolgeranno anche altri due studenti folli dell'istituto. Una cosa molto divertente, in cui ci sarà anche una citazione a Bonpissa molto simpatica. Ci sarà anche spazio per un nuovo personaggio, un Inugami, una dignità a forma di cane masochista, che verrà invocato da Moniji per cercare di sottrarre l'energia a Ichiko, con risvolti che poi vedremo. E poi ci sarà anche momento per una parte un po' più di crescita per Ichiko, che si ritroverà piccolina, a causa di un oggetto fatto nel capitale da Moniji. Si troverà a vivere delle avventure un po' particolari, che la porteranno comunque a riflettere. Insomma, è un manga molto comico, molto divertente, io ci rido molto, devo essere sincera. Ma anche che in alcuni punti, comunque fa un pochino riflettere. E mi è piaciuto perché mentre nel primo numero alcuni punti li ho trovati più frettolosi, altri più riusciti, questo invece nel secondo numero mi è piaciuto veramente tanto. Ho riso in diversi punti, i disegni li trovo molto piacevoli. Il prezzo comunque è buono, 5,50, è comunque un prezzo di 40 centesimi, fedele a quello che è la media per queste edizioni della J-Pop. Quindi io ve lo consiglio, se non altro, perché non è il solito shonen in cui c'è il ragazzo predestinato che deve vincere un torneo, o un manga solo di mazzate, ma un manga di mazzate tra fanciulle, con uno sfondo comunque molto comico e anche originale. Quindi devo dire, appassionati di shonen, secondo me conviene che lo proviate. E' uscito anche dopo diverso tempo a causa dell'interruzione in Giappone, Bokura Garita numero 15 di Yugi Obata, pubblicata a 5,90 dalla Flashbook. Penultimo numero per questa serie, molto malinconica, struggente, che però spero sembra portare verso un lieto fine, spero, poi non si può mai sapere. Uno shoujo che consiglio a tutte le amanti, appunto, delle storie, delle storie struggenti, però comunque piene di sentimenti, insomma. Non è certo una storia allegra da leggersi, da leggere per rilassarsi, ecco. Però è un manga estremamente valido e molto poetico anche in alcuni punti, quindi io lo consiglio molto. Abbiamo anche il numero 10 di 12 della Perfect Edition di Catcaptor Sakura, delle Clamp, pubblicata a 5,90 dalla Star Comics. In questa edizione, appunto, con le bandelle e illustrazioni a colori, molto belle. Per questa storia sempre molto dolce, in cui in questo numero Sakura prende un po' coscienza dei suoi sentimenti per Yukito. Quando si dichiara, ci saranno delle conseguenze, ci saranno nuove carte da convertire col suo nuovo potere magico. Una storia che mi fa molto piacere rileggere a distanza di anni dalla prima volta che l'ho comprata, insomma. Abbiamo poi, dopo un bel po' che non usciva, il numero 15 di Siel, di Rimjoo Yeun, pubblicato dalla J-pop a 6,20 euro. E questo manual, è coreano, fantasy, che mi piace molto e mi dispiace che venga pubblicato così a singhiozzo, perché poi mi scordo un sacco di cose precedenti e quindi faccio un po' fatica a seguire la storia. Che però mi piace tanto perché spazia dai momenti più slice of life ai momenti più misteriosi, ai momenti di combattimento magico puro, in una maniera comunque molto leggiadra, cioè senza far troppesare, senza far pesare questi cambi di registro che ci sono. In questo numero viene messa molta carne al fuoco su eventuali sviluppi, anche drammatici, della questione. viene fatta luce su alcune cose che non state seminate nei numeri scorsi e mi piace molto. Devo dire, è un manuale per ragazze e comunque è molto molto valido. A tutti gli appassionati di fantasy lo consiglio molto, perché soprattutto poi penso che li letto tutto ad un fiato gli è un piacere maggiore nella lettura rispetto a questa pubblicazione così. I disegni sono un po' spigolosi ma leggiabri al tempo stesso. Molto molto... a me piacciono molto. Devo dire, a tutte le ha fatto, perché è un manuale per ragazze, soprattutto, anche se forse anche qualche maschietto potrebbe apprezzarlo, non lo nego. Un po' un incrocio tra uno slice of life e un fantasy. Vero e proprio, ma devo dire che lo consiglio molto. Abbiamo poi il numero 21 della Complete Edition di City Hunter, pubblica da 7 ore e 90 dalla Planet Manga. In questo numero c'è soprattutto una saga che mi è piaciuta molto, che riguarda una donna che pilota gli aerei. E mi piace perché piano piano il rapporto tra Rio e Kaori evolve. Sotto sotto, piano piano, però cambia sempre qualcosa. E poi negli ultimi capitoli si preannuncia una saga molto simpatica, in cui Rio e Kaori dovranno badare una bambina, molto piccina, spuntata da chissà dove, che dovranno proteggere. Veramente molto simpatico, divertente, allegro. Mi sto divertendo veramente tantissimo a leggere City Hunter. Abbiamo poi il numero 9 dell'Evergreen Edition di Dragon Ball di Akira Toriyama, che è pubblicata a 4 ore e 20 dalla Star Comics. Questo numero ha concluso ormai la saga del Red Ribbon. Abbiamo Goku e gli altri che si dirigono dalla Sibilla, per scoprire dove si trova l'ultima sfera che non riescono a identificare con Radar. Qui dovranno affrontare tutta una serie di lottatori messi in campo dalla Sibilla, fino all'incontro finale. Sempre molto divertente, frizzante, piacevolissimo da leggere, e incognito, con disegni molto carini. E Goku è sempre simpaticissimo, anche nel fatto che non riconosce l'ultimo lottatore con cui ha a che fare. Mi dispiace solo che sapevo chi era, perché l'avevo visto dal cartone, questa parte. Quindi sempre un ottimo acquisto, sono contenta che stiamo ricomprando questa edizione, al posto di quella della primissima Star Comics con le pagine che vuolano in piena libertà. Abbiamo poi il terzo numero di Gates, Rendeleclamp, pubblicato dalla Planet Manga. Io ho preso l'edizione standard da 4 ore e 30, ma c'è anche la Deluxe. Allora, manga che non riesco bene a giudicare, perché da una parte mette tanta carne al fuoco, è molto misterioso, intrigante, però è anche un gran casino da seguire, perché in questo manga praticamente i vari personaggi sono reincarnazioni di vecchi personaggi che hanno combattuto nel passato, personaggi storici. Quindi c'è una ressa di nomi che probabilmente per i giapponesi sono nomi comunque noti, per gli occidentali è una fatica abbastanza assurda starci dietro. E in questo momento ci sarà proprio molto spazio dedicato proprio agli scontri direttamente. E mi dispiace anche perché leggerlo così dilazionato nel tempo, in contemporanea mondiale o quasi, secondo me ammazza la lettura di questo titolo in una maniera assurda, perché forse è uno dei titoli delle clamp meno fruibili in assoluto, nell'immediato perlomeno. Le clamp hanno fatto titoli molto più semplici da seguire, da leggere. Questo è proprio contorto da starci dietro e questa tempistica appunto di uscite non aiuta. Devo dire che mi intriga molto, mi piace lo stile di disegno che le clamp hanno adottato qui. Devo dire che mi piace, lo trovo più pulito, meno confusionario, anche i combattimenti, insomma non mi dispiacciono. E mi intriga, quindi lo continuerò, però non saprei se consigliarlo, c'è solo i fan delle clamp, perché per gli altri è veramente un massacro penso da seguire, insomma non è semplice. Ho preso poi il secondo numero di Golgo 13, pubblicato a 7,50 euro dalla J-pop, in questa bella edizione massiccia. Come ho detto anche l'altra volta, non ho preso il box e un po' me ne sono pentita, perché comunque mi sta piacendo molto, devo dire. Sono tutte storie assolutamente noir, di spionaggio classico sostanzialmente, in cui abbiamo sempre Golgo 13 che interviene, in maniera più o meno esplicita, più o meno importante. Cioè in questo volume c'è una storia bellissima, mi è piaciuto anche più del primo, c'è soprattutto una storia bellissima, molto bella secondo me sul passato di Golgo 13. È una lettura che fa piacere, sicuramente a tutti gli appassionati appunto di questo genere di storie, e a chi non disdegna le storie di stampo classico. Ovviamente penso che i lettori più giovani potrebbero rimanere spaisati dallo stile di disegno, che è molto retro. Però se vi piace il genere, io lo consiglio comunque, perché mi sembrano storie veramente di alto livello, mi tengono sempre inchiodata comunque alla lettura. Devo dire che mi sta piacendo moltissimo, sono contenta che la J-pop si sia buttata in questa operazione. È uscito anche il numero 3 del bellissimo, io lo adoro, I giorni della sposa di Kaoru Mori, pubblicato a 6 euro dalla J-pop. A parte l'edizione bellissima, con questo cartoncino particolare per la sovraccoperta, la carta ottima. Ma è meraviglioso. Dopo che già nel secondo numero, comunque avevamo la storia di Amira e Carlucca, aveva preso una piega un po' meno formata, la storia autoconclusiva e un po' più magari ampia. In questo numero vediamo che il punto di vista, in realtà è quello di Smith, il viaggiatore inglese che si trovava con loro, che decida di rimettersi in viaggio, come avevamo visto fino allo scorso numero, e approda per una serie di vicissitudini da una famiglia composta da solo due donne, Talas e la sua anziana suocera. Talas è andata in sposa, praticamente al figlio maggiore di questa donna, che poi è morto, e piano piano a tutti i figli di questa donna, che sono tutti morti di malattia. Quindi una vedova giovane molto bella. e avremo in questo numero una specie di storia d'amore, molto delicata, perché anche visto il contesto sociale è molto particolare, lì insomma in Asia. Ci sono state difficissitudini, di incomprensioni, di famiglie che si intromettono. E avremo anche, rivedremo di nuovo anche Amira e Carluc, che non è che sono stati lasciati in disparte. Insomma, una storia che va increscendo, già mi piaceva tantissimo, mi piace ancora di più. Io lo consiglio veramente, veramente tanto, 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 tanto. Un segno, comunque veramente ben fatto, particolare, ambientazione particolare, disegni e di un dettaglio pazzesco. Basti vedere solo anche, la copertina, per farsi un'idea. E io già l'ho amato, questa autrice con Emma, della Dynit, e la sto amando anche, con questo titolo, che mi piace da morire. Mi dispiace che esca molto a rilento in Giappone, per la periodicità, e quindi esce molto a rilento anche qui. E' uscito poi, finalmente, il numero due del professor Leighton, e i misteri buffi. Il manga pubblicato dalla Planet Manga, a 4,90 euro. Questo manga, è una trasposizione comica, che riprende i personaggi, appunto, dei videogiochi del professor Leighton. E ma anche un po' bruttino, detto proprio in tutta onestà, i disegni sono bruttini, anche le varie scenette comiche, non è che siano tutto questo granché, ma io sono profondamente devota a Leighton, lo amo, cioè mi piace di morire. I giochi li ho divorati tutti, e quindi prendo anche questo, proprio per amore della saga. Ma lo consiglierei solo ai fan estremisti come me, ecco, devo dire che in questo numero, a un certo punto, c'è una presa in giro, del terzo gioco, il futuro del professor Leighton, il futuro perduto. Se non sbaglio, si chiamava così. Quella è stata molto divertente, con la parte lì, che lo prendevano in giro, lì ho riso parecchio, perché effettivamente prendevano in giro, alcune cose strane, estremizzate molto. Per tutto il resto, rimane un manchino molto mediocre, ecco, quindi, diciamo, non lo consiglierei in generale. forse è un pubblico molto, molto giovane, ma se no, niente. Abbiamo poi il numero 4, per la divertente commedia Io sono Doshiro, di Ryuki Nishimori, pubblicato a 4,50 euro da Lagoen. Sempre più divertente, il nostro gruppetto di amici, si ritrova ora, dopo i problemi causati nella vecchia scuola, si trova in una nuova scuola, piena di teppisti, dove lì è la legge del più forte, e dove il nostro Doshiro, vestito sempre da samurai, e tutti gli altri, si riusciranno in qualche modo a inserire, in maniera molto particolare. La cosa che mi fa morire di questo manga, è che Kensuke, che è il ragazzo normale del gruppo, che è stato trascinato da Doshiro in tutto questo, e per una serie di circostanze letto a capo, Kensuke è un ragazzo molto stressato, è bellissimo, perché reagisce veramente in maniera molto comprensibile, a tutte le stramberie che gli accadono, a forza di stare in una scuola del genere, soprattutto intorno a Doshiro, e cerca di reagire in maniera veramente silarante, però poveretto, è proprio la classica persona stressata, che mi ha fatto scompisciare in questo numero, secondo me va migliorando, Doshiro è sempre molto simpatico, spero che diversi di voi gli vogliano dare una possibilità, perché è una commedia sicuramente atipica, e molto originale, quindi io lo consiglio molto. Abbiamo poi il secondo numero di Love Button, Shoujo proposto dalla Flashbook a 5,90€, di Makiusami, un'autrice che si è sempre caratterizzata per storie molto dolci, e un po' zuccherose. Questo manga mantiene sempre la dolcezza tipica di questa autrice, però lo condisce con un protagonista tendente al satico, verso la ragazza di turno, e questo rende il manga divertente e frizzante, in alcuni punti devo dire, seppur molto dolce. In questo numero continua la relazione di prova tra Koga e Nina, in maniera sempre un po' tra equivoci, piccoli bisticci, tra lui che la mette sempre in difficoltà di proposito per burlarsi di lei, e lei che insomma ci rimane un po' sempre spiazzata. Mi è piaciuto anche che in questo numero si crea una situazione abbastanza tipica da Shoujo, che però l'autrice poi riesce a risolvere in maniera molto dolce ma divertente al tempo stesso, senza morbosità, come poteva sembrare, e a un certo punto ho fatto, no, ma che davvero. E invece poi mi ha un po' stupito. Devo dire che il personaggio viene presentato alla fine del volume, bisogna vedere che sviluppi avrà sulla storia, spero non troppo banali, ma insomma, visti i primi due numeri, sono positiva per il futuro, insomma. E appunto, ha uno Shoujo della categoria molto dolci, però secondo me con quel pizzico in più che lo ergo sopra la media, e a me fanno morire proprio i riassuntini umoristici che stanno sul retro per raccontare la trama, appunto. Sono molto simpatici. E quindi se siete appassionate di Shoujo, perché soprattutto per ragazze comunque, questo consiglio di dargli una possibilità, veramente, perché lo trovo molto delicato.